Quando nel pomeriggio del 2 luglio scorso i carabinieri andarono inutilmente a cercarlo nella sua casa di Orgosolo, in molti pensarono che l'ennesima fuga di Graziano Mesina non sarebbe durata a lungo. Quanto avrebbe potuto resistere alla macchia un uomo alla soglia degli 80, senza più la rete di protezione che per tanti anni ne aveva garantito la latitanza? Gli stessi investigatori pensarono a una strategia per patteggiare migliori condizioni di carcerazione in seguito alla condanna a 30 anni per spaccio di stupefacenti. Dopo sette mesi di ricerche negli ovili, di posti di blocco, di interrogatori, di amici e parenti, di Graziano Mesina non c'è traccia. Potrebbe essere lontano dalla Sardegna, ma i carabinieri non escludono che possa essere ancora ben protetto da qualcuno nelle campagne intorno ad Orgosolo, un luogo da cui a dicembre ha saputo della morte per Covid nel giro di soli quattro giorni delle due sorelle, Rosa di 94 anni e Antonia di 77. Ad aprile l'ex Primula Rossa del Supramonte compirà 79 anni e il più vecchio della lista degli otto superlatitanti del Ministero dell'Interno, tra cui spicca il superboss della mafia Matteo Messina Denaro. Ma c'è anche Attilio Cubeddu, il sequestratore di Arzana di 74 anni. Cubeddu è latitante dal 97, quando non rientrò a Badecarros da un permesso. Le forze dell'ordine lo cercano in Ogliastra e tre anni fa la Corte di Appello di Roma ha confiscato un fabbricato di quattro piani proprio ad Arzana, considerato frutto delle sue attività illecite, anche se per qualcuno Cubeddu potrebbe essere morto da anni.